se ogni tanto comprendessimo la portata rivoluzionaria del padre nostro riusciremmo a pronunciare solo pochissime parole proprio come san francesco purtroppo quella bellissima preghiera spesso ci scivola addosso e con superficialità ci passiamo sopra non riflettiamo più sul significato e lo riteniamo una formula ormai acquisita eppure dobbiamo renderci conto che nel padre nostro il protagonista è il cuore non le parole nella preghiera dobbiamo riversare i nostri cuori davanti a dio non semplicemente recitare parole ripetute a memoria il padre nostro ci insegna a pregare ci dona gli ingredienti che dovrebbero rientrare nella preghiera una preghiera che non dobbiamo solo memorizzare e recitare a dio nella nostra preghiera dio è assai più interessato al fatto che comunichiamo con lui parlandogli dal nostro cuore che alle parole specifiche che utilizziamo nella lettera ai filippesi è scritto non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti e la pace di dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in gesù cristo grazie grazie grazie